Gli operatori del Consorzio di Bacino del cantiere di Albanella hanno dichiarato lo stato di agitazione per via del mancato pagamento della mensilità di agosto da parte dell'ente consortile. A spiegare nel dettaglio la situazione il segretario regionale della Filas, Domenico Merolla. Il problema che riguarda i lavoratori del cantiere di Albanella oramai si protrae da un anno. C'è una doppia problematica, la prima che è quella del pagamento degli stipendi e circa un anno i dipendenti di Albanella che lavorano sul comune non riescono mai a prendere lo stipendio nei tempi e nei modi giusti. A volte siamo arrivati anche con due mesi di ritaglio, oggi siamo al 25 settembre che non hanno preso ancora lo stipendio di agosto mentre tutti gli altri 250 colleghi sono stati regolarmente retribuiti. Questo perché con tutta evidenza il comune di Albanella non paga con regolarità i canoni di servizio al consorzio. Stiamo cercando da più mesi di avere un confronto insieme con consorzio e comune proprio per capire perlomeno dove c'è il problema, ovvero se è il consorzio che mente o se è il comune che mente. Ad oggi nonostante le varie richieste e i vari stati di agitazione non siamo ancora riusciti a mettere insieme i due attori, quindi tutto lascia pensare che il consorzio ha ragione e il comune non paga con regolarità il canone. La seconda problematica è quella più stringente, anche se ai lavoratori interessa soprattutto portare lo stipendio a casa per assolvere a tutti gli obblighi delle famiglie, per il sostentamento delle proprie famiglie. C'è un'altra problematica, il consorzio ha dichiarato, ha formalizzato a tutte le istituzioni che al 30 settembre non sarebbe più stato in grado di gestire i servizi. Ovviamente le amministrazioni servite che hanno dimostrato che erano in attività per le procedure di un cambio di gestore, ci sarà sicuramente uno sforzo del consorzio a continuare a fare il servizio. Le notizie che ho raccolto io però è che la gara fatta dal comune di Albanella in linea pratica è come se fosse andata deserto, ovvero le offerte che hanno ricevuto dagli operatori economici non corrispondono a quella che è la procedura corretta. Quindi potrebbe innescarsi un problema ancora più grave, oltre all'emergenza delle famiglie e dei lavoratori si potrebbe verificare che nel giro di un paio di mesi il consorzio non è più in grado di garantire il servizio e il comune non ha pronto un sostituto per fare il passaggio di cantiere. Passaggio di cantiere tecnicamente significa che i lavoratori attualmente in servizio sul comune di Albanella passano a nuovo gestore, quindi mantengono il posto di lavoro e si salvaguardano le famiglie.